Per la Lega Calcio Wisp è stato proprio un sabato da campioni. Questo è infatti il nome della festa di fine stagione dell'ente sportivo che si è trasformato in una giornata di sport e altruismo, anche grazie alla concomitanza con Parma Città Europea dello Sport 2011 e la collaborazione con il Parma FC che ha messo a disposizione lo Stadio Tardini per disputare tutte le finali in programma dalle 16 fino alla tarda serata di sabato pomeriggio. Tra gli eventi più interessanti il triangolare giovanile Cartellino Verde con il Fair Play a farla da padrone che ha aperto le gare con il Tempio del Calcio parmigiano a disposizione degli atleti classe 96-97 che non si sono certamente fatti pregare. Tanti i riconoscimenti rilasciati dal Wisp, tra i più attesi quelli delle rappresentative provinciali che hanno disputato il campionato nazionale con ottimi risultati. La squadra maschile infatti si è giudicata il titolo sconfiggendo una formazione reggiana nella finale di Jesolo. Bene anche gli atleti del Calcio a 5 che si sono piazzate terze in Veneto. Terminate le premiazioni, spazio alla solidarietà con i ragazzi del Centro di Salute Mentale dell'Emilia Romagna che hanno affrontato, in formazioni miste tra ospiti dei centri e volontari, i compagni della Toscana. In serata poi le finalissime dei campionati Signores. L'incasso è stato devoluto in beneficenza alla società Folletti 99 dell'Aquila che purtroppo sta ancora subendo le conseguenze, insieme agli altri cittadini del capoluogo abruzzese, del terribile terremoto che ha colpito la città. I fischietti del WISP, uniti nell'omonima compagnia dialettale, hanno poi devoluto l'incasso dei propri spettacoli all'Associazione Portos e all'Istituto del Buon Pastore. Sì, arriviamo alla fine del nostro campionato, abbiamo pensato di organizzare questa giornata da campioni qui sabato allo Stadio Tardini, grazie soprattutto all'interessamento del Comune di Parma, l'assessore Roberto Ghiretti e anche del Parma Calcio. Una delle altre campioni, siamo partiti oggi alle 16 con un triamo di bambini, con un torneo chiamato Cartellino Verde e poi a seguire facciamo una partita sulla salute mentale. Dopo di questi ci saranno le finali dei nostri campionati, dalla categoria amatori, dilettanti e seniorati. Sì, è una grossa soddisfazione, per il secondo anno abbiamo organizzato con alcuni miei collaboratori la rappresentativa maschile di Calcio 11 e quest'anno siamo riusciti a vincere, soprattutto abbiamo battuto in finale la compagine di Reggio Emilia. Invece le donne sono arrivate terze e come al solito è una bellissima annanda. Noi siamo molto attenti alle fasce deboli, oggi siamo qui a raccogliere dei fondi, soprattutto per una compagine dell'Aquila e pensate, a distanza di tre anni dal terremoto sono ancora a vivere dentro il container. Tutto l'incasso della beneficenza di oggi andrà ai Folletti 99 dell'Aquila, è un'associazione che si occupa della salute mentale. Diciamo che intanto il palcoscenico è quello del Tardini e ringraziamo il Parma Calcio, ringraziamo il Comune di Parma per averci dato questa opportunità. Quest'anno siamo all'interno di questa importantissima cornice di Parma Città Europea dello Sport, allora abbiamo deciso di dare un programma a questa giornata molto lungo, infatti è una kermess di calcio, kermess all'interno della quale il calcio ha molti significati. Prima hanno giocato le squadre giovanili con il cartellino verde, quindi erano partite dedicate se vogliamo al fair play e alla disciplina sportiva. una partita poi legata ai temi sociali come al disagio mentale e infine le nostre finali di campionato di calcio a 11. Questa iniziativa nasce grazie alla volontà della WISP di collaborare come sempre, sia a livello provinciale, regionale e nazionale, nelle iniziative a scopo sociale e benefico. Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo voluto ancora fare questa partita qui con i nostri soci e i nostri associati proprio per devolvere agli amici dell'Aquila, ai Folletti 99 e l'associazione 180 amici dell'Aquila che in questo momento soffrono di grandi disagi e difficoltà nel loro territorio dopo il terremoto. Quindi siamo propensi a queste iniziative, soprattutto c'è un progetto a livello regionale per aiutare i nostri amici a superare questa crisi locale nell'Abruzzo e nel territorio dell'Aquila. In campo ragazzi con disagi psichici ma anche ragazzi che fanno parte dell'associazionismo e del mondo del volontariato. Perché? Perché noi non abbiamo voluto costruire un'entità a sé, cioè costruire delle associazioni o dei giocatori che sono esclusivamente portatori di un disagio sociale, ma anche cittadini attivi, volontari, operatori che hanno voglia di ricostruire un tessuto sociale reale, vero, diciamo dei nostri territori. Quindi non includere, non escludere, ma includere veramente inclusione sociale a tutto spiano, a tutto campo e quindi lì giocano tutti. Noi siamo qui per ringraziare per questa meravigliosa espressione di solidarietà che oggi ancora di più nella situazione così problematica post-sisma si vive all'Aquila. In seguito al sisma l'Aquila ha vissuto una fase critica dove quelle strutture, quali per esempio il centro di salute mentale, il centro di urno e l'associazione 180 amici che erano già presenti, si sono trovate a combattere per avere il riconoscimento della loro funzione sociale e volontaria di integrazione sociale dei pazienti, dei utenti del centro e che ad oggi si basa principalmente su attività autofinanziate e sulla solidarietà per l'appunto di queste occasioni fantastiche cui assistiamo oggi. L'associazione 180 che si è attivamente impegnata nella situazione delle tende per il recupero della vivibilità anche per i pazienti dei centri, oggi è ancora situata in un container perché non possiede una sua sede e cerchiamo quindi in tutti i modi di ritornare almeno in una condizione di normalità. C'è spazio per tutti e mi sembra giusto perché lo stadio di per sé è un luogo di aggregazione, da una parte aggrega tifosi, da una parte la vetrina perfetta della Serie A ma dall'altra parte è anche uno spazio che è sicuramente aspirazionale e quindi penso che per un ragazzo che tutto l'anno sia impegnato, allenamenti, sacrifici, godere di una ribalta di questo tipo sia un premio che gratifica chi pratica lo sport, chi dà tutto per esserci in queste finali. Secondo me è un momento di collettività. Come è noto questa è un'organizzazione dalla UISP che come logo ha sottinteso lo sport per tutti e con questo tipo di manifestazione raccoglie tutto quell'ambito di appassionati, di calciatori nelle varie fasce d'età. È una giornata di solidarietà, una tra le cose più belle è che giocano in un campo storico il Tardini del Parma Calcio e anche questa è una soddisfazione per questi giovani dai più piccoli ai più anziani di poter giocare assieme in questo campo con le tribune. È un'iniziativa del 2011 perché rientra in quei grandi eventi della promozione sportiva e dello sport per tutti perché il 2011 non è solamente lo sport ad alto livello agonistico o aspetti internazionali ma è conferenze, seminari, dibattiti, promozione giovanile e la possibilità di questi di poter finire perché hanno precedentemente fatto un campionato e oggi in queste finali terminano e avremo la laurea di questi giovani che vinceranno il titolo. Grazie. Grazie.